Come gruppo Ferrovie dello Stato riteniamo che l'apertura della Galleria Monteceneri nel 2020 sia un'opera strategica per rendere ancora più competitivo il sistema ferroviario europeo. In particolare quest'opera è fondamentale per la realizzazione del corridoio ferroviario Rotterdam-Genova favorendo lo spostamento dalle strade alle ferrovie delle modalità di trasporto quindi creando quelle condizioni di sviluppo sostenibile nel tempo. Dopo la realizzazione della Galleria San Gottardo il terzo valico punta a rendere il porto di Genova la porta di accesso del sud Europa per le merci da tutto il mondo ed è il progetto più importante degli ultimi anni.